No, volevo prima di tutto ringraziarvi che avete pensato a ricreterci. Se avete assaggiato quel prodotto è veramente super. E mi piace molto nel marketing, hanno fatto nuvola. No, è proprio una nuvola, è una leggerezza. E va bene su tutto. Infatti ho voluto fare anche i formaggi. Sulla gorgonzola io lo trovo stupendo. Mi vanno in due la gorgonzola oggi per provare. Comunque, grazie. No, grazie a te. Bocca al lupo. Cresci il lupo. Dobbiamo, la materia prima, il prodotto italiano, farlo diventare un prezzemolo nel mondo. E sicuramente questo prodotto qua ci riuscirete. Non solo quello, vino, tartuffi, tutte le cose che ci sono qua, le belle cose che ci sono qua, dobbiamo fare conoscire nel mondo. E questo è un altro prodotto eccezionale. Per noi c'è il nostro punto di riferimento di qualità gastronomica, Maurizio. No, veramente. La tua opinione, il tuo parere sul prodotto per noi è fondamentale. Con questo possiamo comunicare, lo dico apertamente, che uno dei più grandi chef della nostra zona, che è un caro amico, ha approvato il nostro prodotto. Poi quando uno crede alle cose riesce anche a trasmetterle molto. Meglio, non molto. Quindi loro ci credono, voi ci credete, dovete continuare così. Perci credete riuscite a trasmetterlo a tutti. Grazie. 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 Grazie.